Manca ormai poco all'edizione numero 475 del Carnevale di Foiano, il più antico d'Italia. Cinque domeniche di festa, dal 9 al 23 febbraio e dal 2 al 9 marzo, durante le quali le vie del paese della Valdichiana saranno teatro dei festeggiamenti in onore di Reggio Condo, il patrono della manifestazione, e in attesa del verdetto finale per decretare il vincitore tra i quattro cantiari in gara con vere e proprie opere di carta pesta. Quattro i carri allegorici in gara rispettivamente realizzati dai quattro cantieri, come si chiamano a Foiano, che dalla prima domenica daranno vita a veri e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le piccole vie del centro storico di Foiano, azzurri, bombolo, nottamboli e rustici. Questi i nomi delle quattro fazioni che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e carta pesta, realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo. Attesa da parte del pubblico per scoprire quali saranno i colori e i soggetti rappresentati in forma allegorica da veri e propri maestri della carta pesta e della meccanica. Tra le novità di questa edizione l'orario, che salvo la prima domenica, che vedrà il suo inizio alle 15 in occasione della presenza della giuria, per le altre domeniche le sfilate dei carri allegorici prenderanno il via già a partire dalle 12. Il Carnevale di Foiano non è solo una gara tra cantieri, ma è anche divertimento e celebrazione di questa importante festa popolare. Molte infatti, come ogni anno, le attività collaterali. Tra le principali attività, le iniziative per i più piccoli, con il Carnevale dei Bambini, che vedrà un percorso divertimento fatto di gonfiabili, trenini, piccoli carri di carta pesta e animazione. La Galleria Fuglio del Fuglia, sede espositiva, e la fascinante Sala della Carbonaia, ospiteranno nelle cinque domeniche alcune mostre d'arte varia. Inoltre, per questa edizione, la possibilità di degustare il cibo di strada proveniente da tutta Italia con il villaggio Street Food. Durante il periodo carnevalesco, alcuni ristoranti proporranno anche dei menu tematici a prezzi speciali, mentre le strutture agrituristiche e alberghiere proporranno dei pacchetti per i fine settimana del Carnevale.